A quasi dieci anni dal primo censimento delle più belle cascate delle Alpi, arriva la nuova edizione di Alpine Ice, che in ben due volumi presenta i migliori itinerari di ice climbing tra Francia, Svizzera, Italia, Austria e Slovenia. Mario Sertori ci porta alla scoperta di tantissime valli fantastiche, che meritano di essere visitate con tanto di picche e ramponi. Alpine Ice volume 1 e volume 2, edizioni versante sud, disponibili online e nei migliori negozi tecnici.